Balla raga, io sono Zet Castol, bentornati alle video recensioni del Trono del Re. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è veramente un fumetto molto molto atteso, il nuovo di Mirkandolfo, ovvero Sweet Paprika. Boom! Allora ragazzi, è arrivato Sweet Paprika, il nuovo e molto atteso lavoro solista di Mirkandolfo, fu una delle nostre disegnatrici e autrici complete più informe e conosciute anche a livello internazionale, sia per la sua importante attività con DC, Marvel e Image, sia perché alcune sue opere sono approdate sul mercato internazionale, estero, con risultati davvero notevoli. Insomma, se siete italiani e amate il fumetto, Mirkandolfo non ha bisogno di presentazioni. Sweet Paprika è un lavoro che attendevo con molta trepidazione, la crescita di Mirk come autrice completa è stata importante e veloce, nei tempi di sacro e profano, passando per contronatura, emersi. Avevo delle aspettative decisamente alte per questo libro, il cui mood sembra perfetto per l'artista di origini partenopee. E sì, lo posso dire, Sweet Paprika è, per quanto mi riguarda, il miglior lavoro di Mirkandolfo. La storia è semplice, efficace, accattivante. Conosceremo, infatti, Miss Paprika, una workaholic integerrima ai vertici della casa editrice Inferno Press, in procinto di trasformare il libro più famoso di questa casa editrice in un blockbuster di successo, Spice It Up. Ma il suo successo professionale nasconde un rovescio della medaglia, ovviamente. Paprika ha sacrificato tutto il suo tempo, i suoi rapporti sociali, e ha irrimediabilmente condizionato la sua vita, rendendolo un mix tra Crudelia De Mon e Miranda Presley di Il Diavolo Veste Prada, ma con un appetito sessuale decisamente molto più sviluppato. Già perché alla base di questo suo accanimento lavorativo e manifestazione di pessimo, orribile, brutto carattere, c'è un blocco psicologico dovuto al padre. Un giudice che nella sua vita si è sempre fatto portavoce di più alti ideali di purezza e rigore. Uno stereotipo, certo, della figura un po' bigotta, italiana, forzatamente vicina agli ambienti più rigorosi e magari ecclesiastici, con una di una purezza che a ben vedere non è mai esistita e mai potrà esistere, visto che sarebbe un tradimento della natura umana. La nostra paprika non può praticamente nemmeno infilarsi una mano dentro le mutandine, che praticamente gli appare il padre e viene spenta, assalita dai sensi di colpa da questa sfissiante figura paterna. Eppure all'Inferno Unpress gira un fattorino sciupafemmine di nome Dill, Dildo per le impiegate, che continua a dar sfoggio del suo talento predatorio. E tra l'altro c'è anche un altro personaggio, l'executive producer della Purgatory Pictures, il diavolo Zatar, che continua ad occupare i pensieri piccanti della nostra supermanager, che lui potrebbe vedere anche qualcosa di più di un collaboratore. Cosa potrà accadere nella vita di Paprika qualora decidesse di seguire la propria felicità e di lasciarsi andare? Come può riuscire a superare questi suoi limiti? La divertentissima storia di Mirkandolfo non è solamente una commedia sexy, con protagonisti angeli e diavoletti che si scambiano spesso ruoli e stereotipi morali, e anche e soprattutto una fotografia, magari un pochino esasperata, ma efficace ai fini della narrazione, della nostra società attuale, che ancora non riesce ad essere universalmente ragionevole. Insomma, è una società dove una donna non può manifestare liberamente la propria sessualità, la propria libertà sessuale, senza essere etichettata come una poco di buono, ma dove invece l'uomo, che ha tante donne, è il viveur, che invece viene idolatrato da amici e compari. Una società che ancora adesso, troppo spesso, fa fatica a relazionarsi, tra l'altro con le figure manageriali di sesso femminile, diciamolo apertamente, insomma, vive di profonde coerenze questa nostra società. Ma attenzione però, Sweet Paprika non vuole essere un manifesto femminile, femminista o una pesante denuncia sociale. Non immaginate niente di tutto questo. E sta proprio qui l'abilità di Mirka come autrice. I suoi disegni, questa volta un po' caricaturali, un po' super deforme, così personalissimi, vicino ad un certo tipo di estetica, un po' anche sacro e profano, ma efficacissimi, veramente molto pop, tono sempre leggero, dialoghi rapidi, taglienti, battute spassose, anche con situazioni verosimili, da una Sweet Paprika un'impronta da commedia, con tempi comici molto buoni, gag ben costruite, atmosfere un po' la sex in the city, con un pizzico di situazionismo e easy reading, da manga anche un po' ecci, se vogliamo. Cavolo, che bel lavoro ragazzi. Finora per me è il migliore di Mirka, che sembra aver trovato una sua strada perfettamente congeniale, con questo tipo di atmosfera e temi. I disegni suoi sono sempre al top, ma qui le forme più caricaturale aggiungono una marcia in più al tutto. Il bianco e nero tra l'altro è ottimo, scelta azzeccatissima, coadiuvata dai retini di Gianluca Papi, rende una lettura scorrevole, veloce, il contenuto è generoso, non appesantisce, anche se bisogna mettere che Mirka comunque è dannatamente brava a colorarsi le tavole. Però questo aggiunge proprio una rapidità, un'efficacia proprio maggiore. Secondo Natura aveva un eccellente plot, ma uno sviluppo che si è concluso forse per me un po' troppo presto, e Mercy, che è un lavoro che finora ho apprezzato di meno di Mirka, forse si prendeva un po' troppo sul serio, Sweet Paprika ingrana la marcia e supera tutti quanti a destra, con una grande prova, una consapevolezza e maturità da parte di Mirka davvero eccellente. È sexy, è piccante, è divertente, tragicomico, non banale nel tema, sboccato, anche un pochino troppo, a dire la verità, è una cosina che Mirka tende a fare un po' spesso, vedo, me l'ha raccorto anche su Mercy, ma ha tutte le carte giuste veramente per diventare un ottimo, ottimo, ottimo prodotto, ragazzi. E poi la serie animata, che nascerà a cura, tra l'altro, di Eric Barmak, che è l'ex vicepresidente e il top content di Netflix Originals, ha del potenziale altissimo. Il fumetto esce, tra l'altro, in diverse versioni, Sweet Paprika, la Regular, poi c'è anche Hot Paprika, che è la versione uguale del fumetto, ma con delle scene ridisegnate per essere più esplicite, più piccanti, e ci sono dei nudi espliciti, delle scene di sesso un po' più chiare, diciamo così. Inoltre c'è un'edizione Variant per le fumetterie, con la copertina di Argerm, e c'è anche una linea speciale di bevande alcoliche, in questo caso una tonica speciale, di Baladenne, che è stata creata appositamente per il vento con l'etichetta proprio, dedicata proprio a Paprika. Una cosa veramente geniale. Insomma, quel che si dice un progetto ben fatto e promettente. Brava Mirka, bravi Star Comics, tutto l'entourage, veramente un ottimo, ottimo fumetto, ragazzi, un bellissimo progetto. E voi, cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti, se vi è piaciuto il video, lasciate un bel pollice su, se non vi è piaciuto, lasciate poi un pollice giù, fateci sapere cosa ne pensate e supportate il nostro lavoro, iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Per oggi è tutto, ciao da Zet!